Salve, sono Giuseppe Federico, Master per l'azienda Saluto Donna e oggi vi presenterò un nuovo prodotto, il Mirror Silver e andremo a vedere insieme alcuni dei possibili utilizzi. Già così se è lucidato su una struttura potrebbe essere lasciato come decoro se si vuole fare un effetto specchio. Adesso vi faccio vedere la versatilità del nostro Mirror Silver e quello che io preferisco fare è decorarlo con i nostri Ink Color. Scelgo alcuni colori e inizio a picchiettare sulla base che per comodità abbiamo precedentemente steso. Scelgo alcuni colori e inizio a picchiettare sulla base che per comodità abbiamo precedentemente steso. Scelgo alcuni colori e inizio a picchiettare sulla base che per comodità abbiamo dovuto essere lasciato. Possiamo continuare fino a quando l'anel art non è di nostro gradimento. possiamo variare con le negarte e farle di tantissimi tipo ho disposto il color soltanto su una parte della tip e adesso con il nostro gel paint oro possiamo arricchire la nostra nail art e catalizzare con il painting oro abbiamo un effetto molto delicato ma con un pizzico di fantasia possiamo fare tantissimi decori e rifiniture anche questo video tutorial è finito se vi è piaciuto fatecelo sapere nei commenti e per non perdervi nessuna novità lasciate un mi piace alla pagina solo tu torna grazie a tutti grazie a tutti